Ciao a tutti! Allora, il titolo di questo video è smetti di lamentarti, oppure fissa un timer, hai bisogno di sfogarti, di lamentarti, ok lo puoi fare, 5 minuti però e poi basta. Questo perché? Perché questa tendenza ha sempre a diciamo crogiolarsi addosso le cose, a lamentare, a non vedere la via d'uscita, ci sono passata anch'io e c'è una bellissima attitudine che aiuta ad uscire da questo circuito vizioso che fra l'altro è dettato anche dal periodo che stiamo vivendo perché sicuramente non aiuta e questa bellissima attitudine che non è molto sentita e non è molto compresa o attuata in occidente in realtà ha un grosso potere. Di cosa sto parlando? Sto parlando della gratitudine. Ovviamente non credo che non ne abbiate mai sentito parlare, la gratitudine è un'attitudine che ha un potere enorme e quindi cominciate a ringraziare, ringraziate a partire dall'amico che è sempre disponibile per voi, cominciate a ringraziare ma motivate questo ringraziamento, non grazie, grazie perché sei mio amico, sì anche certo però cercate di motivare perché ringraziate, date un motivo, una ragione e ci saranno molti effetti a catena. Avete presente un po' quando si butta il sasso nel lago che ci sono questi cerchi concentrici che si allargano sempre di più? Ecco questo è un po' l'effetto nell'esercitare la gratitudine, ve ne accorgerete. All'inizio vi potrà sembrare strano per chi proprio non è avvezzo a queste cose però se cominciate non dico che non riuscite più a farne a meno ma quasi perché è talmente bello ed è talmente, vi arriva indietro talmente, vi arrivano indietro talmente tante cose belle che non smetterete di farlo e vedrete che avrete sempre dei motivi per ringraziare, sempre, qualsiasi da quello più futile a quello magari più più importante, quindi ci sarà sempre qualcosa per cui ringraziare e se c'è un giorno, ci saranno giorni, ci sono giorni che possono essere molto difficili, molto complicati, se ci sono questi giorni trovate lo stesso un qualcosa per cui ringraziare e sicuramente c'è perché c'è assolutamente nell'arco di una giornata una cosa per cui ringraziare. Vedrete gli effetti, innanzitutto il primo effetto è che le persone non sono abituate a sentirsi ringraziare in un certo modo e quindi c'è proprio una prima, rimangono proprio spiazzate ma questa energia, questa sinergia fa sì che alla fine ci sia un coinvolgimento per cui anche voi riceverete dei doni inaspettati, riceverete delle parole inaspettate da persone inaspettate, cioè si muoveranno veramente delle energie incredibili ma non è magia, è che proprio emanerete un'altra luce, emanerete un'altra energia e quando ci si connette con un'altra energia e si emana un certo tipo di energia attirate cose diverse e attirate quindi magari ciò che desiderate o comunque attirate il bello, attirate il positivo e sarete anche più, arriverete anche a ringraziare chi vi ha ferito, arriverete magari dentro di voi ma arriverete a ringraziare anche questo perché attraverso certe ferite, attraverso certi dolori, attraverso certe difficoltà magari avete fatto quel salto di qualità. Il potere della gratitudine, vi faccio vedere questo, il libro che si chiama Potere della gratitudine di John Kralik, lo trovate tranquillamente su Amazon, comunque lo scrivo sotto in descrizione, è veramente molto carino, innanzitutto non è tanto grosso quindi si legge con molta facilità, è una storia vera di un avvocato americano che ha cominciato a esercitare in un momento difficilissimo della sua vita, ha cominciato a esercitare questa gratitudine e la sua vita è cambiata e quindi andatelo, andatelo, prendetelo e leggetelo perché veramente anche solo per curiosità, un semplice grazie può veramente cambiare, iniziare a cambiarti la vita. Quindi io vi lascio con questa bella pillola sulla gratitudine, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se iniziate, come va, che cosa provate, io comunque sono sempre a vostra disposizione, e vi auguro tutto il meglio, in descrizione ci sono i miei contatti per qualsiasi cosa, se volete fare un percorso con me, se volete anche solo comunicarmi qualcosa e quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!